Potrebbe sembrare strano, ma il modo migliore per imparare a sedurre la base, il terreno fertile sul quale innestare tutte le strategie di seduzione è il concetto di distacco dal risultato. Il concetto di distacco dal risultato è un concetto fondamentale perché ci permette di non essere bisognosi delle persone, ci permette di non essere bisognosi e dipendenti dagli altri, altrimenti siamo bloccati, siamo vincolati. Se diventiamo dipendenti dalle persone e dalle relazioni che abbiamo con le persone avremo difficoltà a coinvolgerle perché tenderemo sempre per paura a subire, ad essere accondiscendenti a tutti i vincoli che gli altri ci impongono e quindi accetteremo tutti i compromessi possibili e immaginabili perché dentro di noi ci sarà un pensiero che tenderà a dire se non accetto questa situazione lui mi lascerà, lei mi lascerà e allora si diventa il contrario di ciò che implica la seduzione perché sedurre implica la capacità di farsi desiderare, implica la capacità di essere trasgressivi, implica la capacità di essere imprevedibili e questo si può mettere in atto soltanto se si ha un distacco dal risultato, se non si ha paura di perdere la partita, è un po' quello che fondamentalmente avviene ad esempio nel gioco del poker, le persone che vincono di più sono quelle che non hanno paura di perdere, chi ha paura di perdere purtroppo o per fortuna sarà destinato a perdere e questo vale in molte cose nella vita, sicuramente nella seduzione per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, vi invito a seguirmi sul blog seduzionevip.com, ciao